Benvenuti nel canale, sono Franco Mazzoni e oggi siamo qui per uno spacchettamento selvaggio, signore e signore. Quanti pacchetti vediamo là su in alto? 22. Chissà che cose ci riservano tutti questi bei pacchetti, ragazzi. Guardate qui, roba buona anche. Guarda, guarda, tutti da spacchettare. Ragazzi, senza indurre in tentazione, dovrei cominciare subito a vedere se abbiamo abbastanza fortuna. Ovviamente cominciamo con l'argentone. Poca roba, però vediamo che cosa ci tira fuori quest'argentone. Vediamo se siamo fortunati comunque durante questo spacchettamento. Camacho sarà una buona vendita da portare magari, sì. Vediamo un po'. E c'era be' importante, eh. Aspetta un po', confronto ai prezzi. No, questi stanno bassi, bassi, bassi. Vabbè, tanti rari però che posso usare nelle sfide di creazione rossa. Vabbè, dai, questi mettiamoli via e passiamo subito ad altri. Non perdiamo tempo qua. Pacchetto oro, ragazzi. Attenzione, di cui uno raro. Potrebbe uscire di tutto. Vediamo. Scov! Scov, signore e signori. Il famosissimo Scov. Anche la madre diede il nome Scov. Guarda, schifoso. Quanto si vende? 1.400 in circa. Ok, via anche questa roba, niente di che. A parte un po' di contratti, architetto. Mille crediti. Mille crediti che ci riprendiamo subito. Questi li riprendiamo subito immediatamente. Ok, via. Via tutto il resto. Allora, vediamo cos'altro abbiamo. Un pacchetto oro premium. Attenzione. Pacchetto oro premium. Kurzawa. Robaccio. Ragazzi, io se devo aspirare a qualcosa, aspiro a un ottimo attaccante. Vero Cristiano Ronaldo. Dopo, senza Cristiano... Questi costano tanto, eh. Questi sono buoni da prendere. Diciamo che come squadra, io mi sento abbastanza messo bene. Non sto pensando a altri giocatori da inserire la mia squadra. momentaneamente. Però, se mi parli di una punta, Cristiano Ronaldo. Che è uno del top del top, ora per ora. Quindi io miro a Cristiano. Miro a Cristiano. Non ho altre idee in mente. Se vi dici Gomez, Immobile. Tutte queste persone qua. Per me... Non mi suscitano quel interesse. Mertens. Non lo so, anche lui. Non lo so, non lo so. Però questi, per ora, ragazzi, sono... Ciò che mi piacerebbe ricevere sarebbe Cristiano Ronaldo. Perché se vai a vedere anche il centrocampo, c'è Ciccio, Di Bala. Meglio di Di Bala. Non so chi ci potrebbe essere. I miei esterni mi piacciono entrambi. Poi magari può arrivare qualcosa di importante. Un bel esternino, magari più avanti. Però, boh, in signe, c'è poco fisico, eh. Però, per ora, non è male. Ok, tutta questa roba. 76, quanto si vende questo? Poca roba. Per ora niente, ragazzi. Niente di utile. Questo mettiamo nel trasferimento, perché è doppio. Anzi, facciamo così. Eh, vabbè. Scambio questo doppio con il doppio. Ok, fatto. E quindi... Lo guardiamo dopo, questo. Ora mi devi rompere questo. Scartalo. Via. No, metti sul mercato, dai. Vai sul mercato. Portaci qualche soldino. Allora, vediamo un po'. Ancora 17 pacchetti da aprire, ragazzi. Voglio andare veloce, eh. Però, ovviamente, guardiamo cosa c'è. Se arriva la robetta, la lasciamo perdere subito. Il difensore. Anche lì il difensore, se mi riesce un chiellini. Ma... Io scrignare curiva lì mi trovo bene, ragazzi. Quindi, tanto per non indurci in tentazioni. Via questi. E questo sul mercato. Che ce l'ho già. Ok. Allora, per ora niente di che. 16 pacchetti ancora. No, ora. Quindi Tosti è venuto a poco, ragazzi. Preparate. Attenzione. Si avanza? Non più di tanto. Portiere. Areola. Areola. Quanto si vende sto Areola? Devo riparare un po' i soldi perché l'ho speso un po' per la creazione rose, eh. Vediamo un po' Areola. Due, due. Eh, poca roba anche questo. Via. Tutto il club. Mentre te te ne vai sul mercato. Trasferimenti. Ok. Pacchetto giocatori oro. Dopo di questo, ragazzi, passiamo alla roba interessante. Quindi noi puntiamo a Cristiano Ronaldo, ragazzi. Perché della Serie A, tra i giocatori che ho, è l'unico che potrebbe fare la differenza nel mio club. Tutti gli altri, diciamo, che a loro posizione ce l'hanno. Diciamo, come stanno adesso, mi trovo benissimo con Hakimi. Es, ok, il Insigne. Pacchetto giocatori rare, attenzione. Attenzione, ragazzi, cosa troveremo qui dentro. Attenzione. Germania. Portiere. Bayer Monaco. Neuer. E' proprio lui, signore e signori. Neuer. 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 E' simpatico, Neuer. Neuer. Tantanove. Tanta roba. Questo si svenducchia bene, dai. Si svenducchia bene. Ah, poi abbiamo trovato questo schifoso. Questo schifoso a quanto? Eh, nove mila. Ah, no, no. 29 mila. Buono, buono. Ascia, ascia. Questo è buono. Neuer. Quanto si riesce a piazzare? Eh, dai. Sessantadue. Settantanquattro. Sì, sì, sì. Si svende subito anche questo, certo. Buono. Neuer. Poi cos'altro c'è? Ok, dai. E vai con Neuer subito. Ok, passiamo a questi altri. Dai. Abbiamo già preso... Ottantamila crediti abbiamo già fatti. Stiamo già in attivo, ragazzi. Arnautovic. No, ganza Arnautovic. È tempo di arrivare un sacco, un giocatore. Ora un po' meno, eh. Ora un po' meno. Arnautovic. Quanto lo piazza? No, Arnautovic. Scazza, ma... Vai via. Via. Contratti a Gogo. Milequit. Doppio milequit. Uno ce l'ho. E me lo tengo. Il mio milequit. E me lo tengo. Tanto prima o poi farà il sostituto quando arriverà qualcosa di più importante. Attenzione, andiamo a spacchettare anche questo pacchetto, signor, signori. Io voglio Cristiano Ronaldo, ragazzi. Voglio Chris. Ma no perché il nome. È perché l'attaccante più prolifico della Serie A. Ah, Reola. Ce l'ho già, Reola. Schifosi. Ce l'ho già. Chi altro c'è insieme a Reola? Sochen. Ce l'ho già. Via. Via. No, questi devono andarli tutto al mercato. Via. Metti sul mercato. Vai. Metti sul mercato. Vai. Questi li comprai per la sfida e creazione rosa. E vai. Ok. Passiamo all'undicesimo pacchetto. Chi potrebbe interessarmi della Serie A, ragazzi? Se mi dici un giocatore... A parte Cristiano Ronaldo. Sto pensando ad altri giocatori che potrebbero interessarmi. Non mi viene in mente nessuno. Argentina. Cicci. Che... Banega! È tempi all'Inter. Me lo ricordo ancora il nostro panechino. Quanto lo fanno Banega? Quanto viene Banega? 5.000? Quanto fa? Vediamo. 3-2-3-4. Eh vabbè, dai. Qualcosina portiamo a casa anche un Banega. Vamos. Tutto al club. Ancora. Pensiamo dei bei giocatori della Serie A che potrebbero interessarmi. Portiere ce l'ho al top. Andanovic. Difensore. Ma il Buena, maledetto. Lo ci ha piazzato tutte le parti. Eh, non... Ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti se c'è qualche giocatore che vi viene in mente a voi. A me vi viene in mente chi? Nessuno. Ma proprio nessuno. La scarta. Non voglio perdere neanche tempo. Ah, perché non sei neanche... Primo oggetti, confronta... Primo oggetti. Scarta oggetti. Sì. Questo non è scambiabile. È schifoso. Andiamo a vedere gli altri 9 pacchetti. Di regola, ragazzi, se pacchetto è 10 pacchetti, faccio il video. Stavolta, però... Mi sono arrivati un sacco. Ho detto, vabbè, portiamolo. Netto, netto del Barcelona, signori e signori. Niente di chiacchia questo Netto. Schifoso, Netto. Chi altro abbiamo? Everton. Robaccia. Via tutto. Si venderà tutto con calma. Attenzione, 12 rari. Vediamo questo pacchetto qua. Solo Cristiano. Solo Cristiano può farmi brillare. Solo Chris. Può cambiare il mio Lautaro Martinez. Finlandia, portiere. Leverkusen. Ma non ti conosco. 83. Non c'è neanche il giocatore a ballare. Neuer. Per ora è il pezzo grosso e il Neuer, ragazzi. Non è preso. Solo Neuer per adesso. Ok, via. Tutto al club. Arnaut, vici, metti a vendere. E vai anche te in vendita. Prossimo pacchetto. Allora, questo pacchetto lo voglio dedicare a Mirko. Vediamo. Mirko Ballone, 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 Mir dedicalo al primo in classifica perché il primo in classifica è ciò che porta il top momentaneamente quindi dedicalo a lui questo pacchetto è per caos caos04 caos04 youtube caos04 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 scarsa schifo ma detto te niente proviamo a tifarne uno per uno per lui uno proprio per lui per Ettore per Ettore grande Ettore che mi porta il grande giocatore Ettore mi porta il giocatore top 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 Ettore mi porta il giocatore toppino toppino schifo Aitor ma affambrodo cazzo mi ha fatto portare Ettore niente di buono via questo è il mercato ma ho sbagliato non dovevo darlo a Ettore devo scegliere un'altra persona che mi porta più fortuna eh qui è facile proviamoci dai mi è venuta in mente quella persona ormai Ryugan Ryugan schifoso Ryugan schifoso mi porta fortuna Ryugan schifoso mi porta fortuna ma cos'è movimento portiere ma cosa mi porti Ryugan cos'è cosa ha portato non capisco è decifrabile Ryugan era divise cos'era loghetti magliette vabbè non è valido Ryugan si è distratto Ryugan è molto distratto questo lo dedichiamo a Dardan l'animale 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 Dardan dorme nel letto Dardan dorme nel letto Dardan dorme nel letto Dardan muove nel letto Dardan muove nel letto madonna ragazzi per un attimo l'ho visto mi sembrava Gullit Olanda l'ho visto anche guarda lì Gullit da giovane e quanto si vende sto coso bravo Dardino bravo Dardino bravo Dardino Dardino porta bene bravo Dardino bravo vedi che sembri coglione in verità sei coglione sembri coglione sei un coglione questo per Naples pacchetto per Naples forza Naples dai allenatore del pro club manual death forza dai qui ci vuole il risultato Naples portami il risultato porta il risultato Naples vaffan brodo te Neto e tutti quelli che fanno i parrucchieri maledetto te con quelle forbicine vediamo niente vabbè Neto doppio qualcosina a casa mi fai portare dai dai che qualcosina porti a casa ottimo e la ragazza rimane lui proprio lui mister Foggiano vediamo un po' che combina la sua Foggiano attenzione pacchetto per Foggiano ovviamente che vi si è scordato ragazzi pace eravate nei primi pacchetti Foggiano allenatore Foggiano ATT Foggiano gioca nell'Iars Foggiano Foggiano è proprio lui Niente ragazzi è andata male è andata male questo spacchettamento è andato proprio male devo dire è andato proprio male diciamo grazie ci siamo coperti un po' con noia se non era per noia è andata così però per quello che vi dico io io la squadra ce l'ho già pronta mi manca come avete visto nella live che metteremo oggi non c'è nuovi giocatori acquistati perché l'unico giocatore che sto puntando è Cristiano Ronaldo è l'unico che può sostituire il nostro Lautaro Martinez ragazzi questo era lo spacchettamento del Frencone grazie a tutti per essere passati qui nel video lasciate un like condividete questo video mi raccomando preparatevi per le prossime scommesse leggete tutto il regolamento in descrizione abbiamo inserito anche le sostituzioni quindi leggete ciò che dice il regolamento sulle sostituzioni qui sotto nella descrizione adesso signori da Frenc Mazzoletutto ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi un bocca al lupo per oggi da Frenc Mazzoletutto passo chiudo è il filo alia ciao